Il direttore generale Antonio Squilante comunica che così come disposto nell'atto deliberativo sono stati completati, collaudati e consegnati i lavori di adeguamento funzionale al presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. I lavori completati, ha dichiarato il direttore generale Antonio Squilante, rappresentano un ulteriore passo per la riqualificazione strutturale e tecnologica degli ospedali dell'Asala Salerno e testimoniano l'interesse di questa direzione per l'intero territorio provinciale. La riqualificazione e la manutenzione degli edifici ospedalieri della provincia di Salerno e la loro moderna ed adeguata dotazione tecnologica costituiscono il presupposto fondamentale per garantire un'assistenza qualificata ed elevati standard di cura. Infatti, l'attenzione per gli standard strutturali ed alberghieri dei presidi ospedalieri è importante almeno quanto la qualità dei professionisti e delle apparecchiature in essi presenti. Abbiamo, conclude Squilante, con il nostro costante e quotidiano lavoro provato a cambiare nei limiti temporali ed economici che ci sono stati consentiti l'offerta di salute in provincia di Salerno. Siamo certi che buona parte di questo risultato è stato raggiunto. Nell'operazione sono stati impiegati circa 5 milioni di euro.